Il primo è di Abel Balbo, l'argentino Abel Balbo, poi ha raddoppiato Fonseca, Daniel Fonseca che è tornato al gol, poi ancora Balbo doppietta e quindi il primo tempo si chiude sul 3-0 per i giallorossi. Nel secondo tempo, quarto gol grazie a un autorete di Rueda, giocatore naturalmente del Neuchatel Samax e passiamo invece alla brutta sconfitta.